Buongiorno, ben ritrovati alla rassegna stampa di Radio Piave in Blu condotta dai giornalisti dell'Amico del Popolo. Oggi sono io, Luigi Guglielmi, a guidarvi nella lettura delle principali notizie, dei principali temi di cui si occupano i giornali della provincia di Belluno. Prima però di cominciare con le notizie strettamente locali, volevo mostrarvi la prima pagina del Corriere della Sera per una sorta di amarcorda, se vogliamo, specialmente per chi ha una certa età come categoria nella quale mi metto anch'io, perché vi mostro la prima pagina del Corriere della Sera, eccola qui, vedete, c'è la notizia sotto il titolo di Conte alla sfida con Renzi e poi c'è una foto dell'attore Flavio Bucci, ve lo ricordate, era quello che molti anni fa, era in 1977, io facevo le medie, aveva interpretato sul piccolo schermo sulla televisione la figura del pittore strambissimo Ligabue. Bene, questo attore è morto in condizioni critiche, insomma, perché era rimasto senza soldi, come dice il titolo, Bucci, l'attore dimenticato che ci fece scoprire Ligabue, morto a 72 anni, l'ultima intervista, non ho soldi, vivo in una casa famiglia. E il lancio è questo, addio a Flavio Bucci, il Ligabue naif della televisione, l'attore, 72 anni, è morto in solitudine stroncato da un infarto, protagonista di tanti film in tv, si sentiva a suo agio in teatro, di sé aveva detto ho speso tutto in donne, vodka e cocaina. Ne ha fatto una fine così brutta, insomma, morto in una situazione di povertà, di dipendenze e tutto. Lo voglio citare, lo voglio ricordare perché di fatto la vicenda di Ligabue aveva acceso un riflettore anche sulla nostra terra perché nella parentela di Ligabue c'era una famiglia di Cencennighe, la madre se non ricordo male era originaria di Cencennighe e quindi Cencennighe bene o male ebbe anche un così, insomma, i riflettori accesi ai tempi in cui tutti guardavano la televisione, insomma, la Gordino, la provincia di Belluno aveva avuto, tutta l'Italia si era appassionata alla vicenda di questo pittore, se non ricordo male, emiliano, romagnolo, che però aveva questo aggancio con la nostra terra e in questa sua, come si può dire, chiusura, in questi suoi modi rudi, così si poteva forse vedere anche qualcosa, insomma, delle sue radici anche montanare. Tant'è che poi a Cencennighe era stata fatta anche una mostra, ne ho ricordi diretti, insomma, vabbè, allora, niente, mi fermo qui solo per ricordarci e ricordare la vicenda così triste e particolare di questo attore a cui eravamo rimasti legati, di fatto, per questa sua interpretazione di molti anni fa. Adesso lasciamo il Corriere, pagina nazionale, andiamo sul locale, voglio partire dalla notizia che è dentro un riquadro, quindi non ha moltissima evidenza, però è importante, in apertura di pagina del Corriere del Veneto, pagina 13, che è la pagina dedicata a Belluno, vi informo comunque che in prima, adesso non abbiamo tempo per vedere tutto, nella prima pagina del Corriere del Veneto, inserito del Corriere della Sera, si fa riferimento al proseguimento dell'indagine contro la mafia nel Veneto che sta scoperchiando una rete di decine e decine di persone coinvolte che taglieggiavano sia all'interno della regione, nell'entroterra, sia sulla costa, soprattutto rivolgendosi agli imprenditori in crisi, una faccenda veramente brutta e anche da qui sempre bisogna dirlo, se ci sono notizie, se ci sono informazioni, denunciamo, denunciate, è l'unico modo per tenere la mafia lontana dalle nostre terre. Torniamo alla pagina 13, Nevegal, la regione stanzia fondi per la promozione, il rilancio del colle. Non sarà certo la soluzione ai mali del Nevegal, ma potremmo interpretarlo come un piccolo segnale di speranza, scrive MG, cioè Moreno Gioli, in apertura di pagina sul Corriere del Veneto. La regione Veneto crede ancora nel rilancio del colle dei bellunesi, mentre è sul tavolo della seconda commissione la proposta di legge sulla valorizzazione dei comprensori sciistici del Veneto, che metterà in campo 12 milioni di euro per il rilancio degli impianti, con particolare riferimento proprio al Nevegal. Nei giorni scorsi la giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo Federico Caner, ha assegnato al comune di Belluno un contributo di 30 mila euro finalizzato all'attuazione di un piano promozionale per il sostegno della stagione turistica invernale nel comprensorio sciistico del colle. Insomma, riassumendo, la regione ci mette per ora 30 mila euro dati al comune di Belluno per promuovere il Nevegal. La cosa senz'altro utile e importante, lo dico perché da frequentatore del Nevegal, non da sciatore, però ero su anche sabato mattina, si vede tanta gente arrivare sul colle, purtroppo insomma la neve non è molta ma si scia in coca e infatti c'era molta gente anche sul piazzale che prendeva la pista principale del Nevegal, ma c'è tanta gente che viene su, sentivi tanto parlare del Trevisano, perché la gente ha voglia di Nevegal, però bisogna ricordare che esiste il Nevegal, è a due passi da Treviso, i trevisani ci vengono volentieri, è giusto che si faccia qualcosa di più per la promozione del Colle Bellunese, che è bellissimo panoramico, si vede il mare da una parte, si vedono le Dolomiti dall'altra, è una cosa straordinaria. Quest'area, ha spiegato l'assessore regionale, ha patito più di altre una situazione di crisi causata dal calo delle presenze, dice il giornale, e pertanto nel proprio collegato alla legge di stabilità la regione ha previsto un sostegno per rilanciare l'offerta dell'altopiano. La misura non è nuova, dice Moreno Gioli, ed riprende ciò che è stato fatto già lo scorso anno, quando venne stanziata la stessa cifra utilizzata per promuovere il Colle nelle scuole del Veneto. Il Nevegal ha bisogno di essere rivitalizzato, ha concluso l'assessore regionale, cioè sempre Federico Caner, e attraverso il progetto marketing che ci è stato presentato si punta in particolare a promuovere la caratteristica di comprensorio montano vicino alla pianura, facile da raggiungere, con prezzi competitivi adatti ad una clientela che vuole avvicinarsi allo sci, una meta per le famiglie, per sciatori non esperti in generale, per chi proviene dalla nostra regione e da quelle limitrofe, penso personalmente che sia appunto la chiave giusta per promuovere il Colle. Il tutto mentre il Nevegal vive la sua stagione più difficile, tra mancanza di neve, piste dimezzate e la pesante incertezza sul futuro degli impianti di risalita, perché questa in effetti è la situazione. Non si sblocca infatti la situazione relativa alla Niucco a capitale misto pubblico privato che il Comune di Belluno vorrebbe istituire, sono molti i nodi da sciogliere a livello burocratico e su questi nodi si innesta anche la questione appunto della proposta di legge regionale che metterebbe in campo, come dicevamo prima, 12 milioni di euro per il rilancio degli impianti pensata soprattutto per il Nevegal, dove potrebbe essere riscritta completamente da quello che si è capito la mappa dell'impiantistica sul Nevegal con un impianto solo, sostanzialmente molto più efficiente e in grado di servire tutto il Colle, detta molto in soldoni, ma insomma un ragionamento è su questo tema. Scorrendo la pagina verso il basso c'è il titolone centrale provincia, pace fatta sulle deleghe, dicevamo ieri, gli assessori che prima erano del listone unico adesso sono di minoranza, cosa facciamo? Ma sulla nuova A27, cioè il possibile proseguimento dell'autostrada, sarà battaglia, primo incontro dopo l'elezione, il centrodestra accetterà gli incarichi di Padrin, il neopresidente chiede coesione ma sul prolungamento dell'autostrada faticherà l'articolo, è a firma di Moreno Gioli, non vi leggo di più, lascio a voi l'approfondimento, il lancio dell'evento Mondiali di Ski Cortina 2021 in tour a Bologna e Padova e c'è la foto del peluche Corti, Cortina, che è la mascotte dei Mondiali di Ski, appunto il peluche era stato lanciato qualche tempo fa, adesso cominceremo a vederlo di più perché si comincerà a parlare di più di questo appuntamento che si avvicina. Prima pagina del gazzettino nell'edizione nazionale, svolta Prosecco, la regione stop a nuovi vigneti, questa notizia l'abbiamo data anche ieri noi sull'Amico del Popolo, su www.amicodelpopolo.it perché? Perché di fatto il tema del Prosecco riguarda anche noi, c'è stato un convegno importante in provincia di Treviso al quale ha partecipato l'assessore all'agricoltura Pan e il presidente della regione Luca Zaia e entrambi hanno toccato il tema del Prosecco da due angolature diverse, insomma si sono anche sovrapposti in questo, l'assessore Pan in particolare ha ribadito che entro dieci anni dovrà essere dimezzata la quantità di prodotti chimici sui vigneti, insomma quindi per arrivare ad una cultura del vino e una cultura oltre che cultura del vino totalmente, cioè molto più bio di quanto non sia adesso. Questo è un tema molto forte anche in provincia di Belluno dove i vigneti sono arrivati, non certo nelle percentuali che vediamo sul versante sud della linea delle prealpi però i vigneti ci sono anche in provincia di Belluno e preoccupa molto il trattamento con gli anticrittogamici perché è qualcosa di molto forte e importante. Dall'altra Zaia ha ribadito che la regione non autorizzerà nuove piantagioni quindi quello che c'è c'è e di più non si farà. Svolta Prosecco la regione stop a nuovi vigneti il titolo appunto Zaia non autorizzo altre superfici in dieci anni come vi dicevo pesticidi da dimezzare. Non vi leggo neanche il lancio ve l'ho riassunto così questo sulla prima del del gazzettino nazionale andiamo a vedere invece che cosa hanno messo i colleghi del gazzettino sulla prima di Belluno e adesso ve la apro eccola qui a 27 Bolzano divisa sullo sbocco l'impostazione è interessante sarebbe da andare a leggere io faccio forse in tempo a leggervi no neanche perché non ho più tempo vi leggo solo il sommario il lancio in prima comunque il sommario è questo la CNA del nord est oggi presieduta da un alto attesino favorevole al progetto di prolungamento dell'autostrada Compatcher ribadisce invece l'indicazione data dalla UE i vincoli ci sono e vanno rispettati quindi inutile parlarne e poi altri titoli ancora sul Nevegal San Gregorio il proprietario è certo il rogo è doloso il castello di veloce la mia casa fuoco non è un caso velocissimi vi mostro cosa c'è in prima sul Corriere delle Alpi la notizia credetemi è molto molto importante vaccini tra i bambini la copertura sale al 95% per la prima volta l'Ulss Dolomiti ha raggiunto l'obiettivo che le era stato imposto dalla regione caso TBE in 8 mesi sono state distribuite 14.000 dosi del vaccino contro le zecche lunghe liste di attesa tant'è che ad Agordo c'è un ambulatorio in più bene questo è importantissimo io non so perché ogni tanto ci dimentichiamo che cos'è la guerra e reagitiamo temi di guerra che cos'è il razzismo e reagitiamo temi di razzismo che cosa sono le brutte malattie eppure ogni tanto agitiamo la battaglia contro i vaccini che è una battaglia assurda perché i vaccini ci salvano la vita hanno migliorato la qualità della vita quindi questa è una buona notizia perché una copertura così alta impedisce la circolazione delle malattie anche tra chi non fosse vaccinato con questo devo chiudere qui ho finito il tempo a mia disposizione io vi ringrazio come al solito per l'attenzione siete tanti che ci seguite su questa rassegna stampa ogni mattina vi invito comunque a stare con noi su Radio Piave su www.amicodelpopolo.it su facebook, su youtube, su instagram e adesso anche su telegram quindi è impossibile che non ci troviate se ci cercate sui social ciao a tutti buona giornata grazie grazie